Buongiorno a tutti, allora oggi vorrei fare un annuncio molto interessante, voi sapete che fanzine che fa Gabriele Lopez, Bernardi, Vittorio Guzzi e poi anche Angelo Ferlillo sono anche tanti altri che fanno questo tipo di fanzine, fanzine che cosa è? è un fan magazine, cioè un movimento diciamo così, che è stato creato negli anni 60 intorno a tanti grandi fotografi di oggi in Giappone che, allora adesso in Giappone questi giovani che hanno creato, hanno cercato di far rinascere e questo tipo di movimento, cioè alla forma di Provoke hanno fatto questo numero uno, è il Fix cioè signor Tsuyoshi Ito e suoi amici Provoke che cosa è? Provoke Generation è intorno degli anni 60, anni 70 cioè questo è molto interessante, perché c'è chi non conosce la storia dei fotografi giapponesi cioè veramente è una cosa molto interessante perché fotografia come il tuo diario come il, diciamo, itinerario sentimentale della tua vita cioè questo è, perché a questo punto Daido Moriyama utilizzava delle macchine non importanti, non so come laica, l'icona eccetera magari anche una compatte, cioè addirittura il negativo sviluppato, buttati, carpestati e lui vede una foto molto bella e dice porca miseria questa è una bella fotografia ma, cioè con strisce sul negativo, cioè quindi non ha una qualità chissà che cosa di incisione, della distorsione, della vignettatura, della bokeh sfocata no, 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 immagina che deve parlare cioè l'essenza di fotografia che cosa è? cioè, ok, allora, Ito Ziyoshi, che non so chi è, non ho ancora conosciuto ma comunque uno dei responsabili di questo gruppo giovani giapponesi è che hanno ricreato questo giornale bene, tramite Gabriele Lopez che mi dice ma guarda che stanno facendo una cosa molto interessante e il primo numero, cioè, regalano bene, allora, e perché tu paghi le spese di spedizione? benissimo, allora, io entro nel sito cioè, adesso dopo mettiamo, anche voi potete farlo e io ho pagato, mi sembra, due o tre numeri, ok? di spese di spedizione e poi contatto, cioè mi contatta, io lo contatto e così, cioè, scopriamo chi sei, il Ito e scopriamo cosa stanno facendo e lui ci offre ma, oh, Otanare, vuoi che ti mandi una scatola? ma io dico, ma cavolo, sono lusingato così cioè, intanto regalo a Gabriele, eccetera, eccetera, eccetera bene, e mi manda tutta questa scatola mamma mia, cioè, una quantità micidiaria di questo giornale bene, allora, è giusto, questo regalerò a tutti coloro che interessano questo tipo di fotografie e quindi anche Gabriele, cioè, vorrei regalare a tutti coloro che stanno già facendo in Italia e mi piacerebbe creare un, anche contatto, legame, anche con questo gruppo giapponese perché, in realtà, poi, ieri parlavo anche con Carlo Gio e lui, in Australia ci sono anche quelli che fanno la stessa cosa perché no? ma perché non creiamo una rete degli appassionati e di fanzine? ma, cavolo, cioè, spettacolare quindi, quindi, qua stanno, non so, 150 copie quindi, chi interessa, venite a prendere cioè, avrete una copia gratis poi, a questo signorito, io l'ho detto bene, il gruppo italiano intorno a Buzzi, Davide e Gabriele e fanno spesso questo tipo di riunione, cioè, una festa perché non vieni anche tu mi ha detto, forse in autunno cioè, in occasione di Parifoto, viene a Parigi e poi, dopo di che, passerà a Milano cavolo, è spettacolo è bellissimo fare anche questo incontro con Ito adesso faccio anche un piccolo annuncio no, anzi, ringraziamento a Ito in giapponese Ito-san, doma arigato gozaimashita ちゃんto ci comasita これ cara, con, 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 con,理 a você in autunno o, a私 toldo, italianali no tomadachio doma rima su doma arigato ok, ho detto in giapponese non avete capito? Lennissimo, fa niente poi, Niohdo Kamerà cosa fa? abbiamo fatto un workshop di fanzine questo è una fanzine creata dai partecipanti cioè prima hanno studiato, hanno avuto istruzioni poi dopo di che la seconda serata abbiamo scelto, abbiamo stampato bellissimo, questo numero è anche un numero particolare particolarmente molto buona cioè ognuno di noi potrà arrivare a stampare beh, ho fatto questo viaggio di due giorni in Sicilia, va bene, faccio fanzine perché no? perché no? cioè non ha importanza che tipo di carta va benissimo, una carta da fotocopia, benissimo poi, ma vedete che bella roba, mamma mia che roba poi qua abbiamo messo i nomi di partecipanti, abbiamo messo anche una firma questa è una copia preziosissima preziosissima non perché chissà quale valore commerciale no, però valore per me sentimentale importantissimo molto meglio di un libro importante di Sargato questo è per me più importante di Sargato cioè questo non sto dicendo che Sargato no, ho messo, ho detto Sargato perché Sargato è importante fotografo però questo per me è più prezioso del libro di Sargato cioè questo è il mio sentimento bene, quindi venite a prendere questa copia omaggio ok? sono tutti per voi aspettiamo grazie grazie grazie